aiaia salve rega ci siamo visto questo partitazzo real manchester city è una buona partita con spunti non indifferenti il siti l'avete visto all'inizio è stato un ruolo compressore ha messa le corde real madrid i primi 20 minuti diciamo che real madrid è inesistente europa stato e quando sembrava insomma che poteva el city poteva qualcosa di straordinario ha segnato real madrid diciamo che un po come non so qualcuno devo forse si ricorderà cassius clay no quando pugilato da vale pugilato cassius clay era quello che si difendeva stava lì faceva sfiancare avversare poi un'altra marca po diciamo che real è un po come cassius clay ha segnato vinicius e forte sto giocatore però un bel giocatore è proprio veloce rapido forte fatto un bergò e poi secondo tempo quando magari il reale sembrava che c'era il piglio del gioco appareggiato el city bergò pure del brun bellissimo con la botta dubbio sventole da lontano e bello che vedevo dire che io non lo so il real madrid è una squadra che non è mai doma non è mai doma e ritorno sarà molto molto combattuto io credo che sto giro il siti possa farcela perché non lo so perché come ho detto se non ciò non c'ha fa quest'anno penso sarà diventerà impossibile vincere a versi della giampio lì io penso che quest'anno potrebbe essere l'annata buona comunque real madrid come sempre detto è una squadra che non è mai doma perciò se non c'è diciamo ripartono da capo ma purtroppo per il real su giro è buon giochi fuori casa 1 a 1 forse se avesse vinto con gol descarto il real avrebbe avuto la possibilità perché il sito avrebbe attaccato di più e in contropiede molto pericoloso real avrebbe avuto sfruttare l'occasione certo che il siti farà la partita ma no quella partita che ta sfissi alla davanti non credo che farà la partita che se butta lì davanti e te perché il po rischiata via il contropiede reale il contropiede forte due tre funamboli lì che pieno palla partono diventa un problema penso che sarà così ma la cosa che un po stupito nel senso che stasera holland è stato quasi nullo diciamo perché ancelotti ha messo rudy che era uomo proprio gli era attaccato proprio e diciamo ha avuto quelle poche possibilità un paio di possibilità che ha avuto l'avuto nel primo tempo quel tiro così e quel colpo di terza poi nel secondo tempo quando ha avuto quella scivolata quel difensore che è entrato che ha raddoppiando le marcature infatti holland ha avuto la marcatura fissa e poi ce l'ha avuta raddoppio chi era in zona lo marcava era marcato proprio come se un sorvegliato speciale in poche parole un sorvegliato speciale penso che guardiola per poter credo questo è il mio pensiero per poter sfruttare bene ora degli deve mettere almeno un'altra punta vicino una seconda punta uno che gli fa da raccordo perché sennò solo volo della davanti cioè quello che ha avuto quelle occasioni che ci ha avuto dicevamo era avuto perché quando si attaccava in massa gli si poteva più lo spazio e libera ma quando il siti ha diminuito l'intensità holland la davanti è diventato nullo diventato come un oggetto smarrito infatti ecco perché secondo me guardiola se fa una partita del genere non la fa sfissiante dovrebbe avere una mezza punta sono qualcuno che gli sta vicino proprio a holland che gli apro lo spazio perché se no diventa un problema così non segna diventa un casino certo se gli capita una palla di testa alta che magari bene è quello che magari la può sfruttare che lucia il fisico sulla e magari però ho l'andato da rudy che stasera è stato marcato bene sarà una partita molto interessante da rivedere e domani sera ci stanno i pagliacci che contro il mila cercheranno di affrontare il mila che gli manca leao purtroppo è un pezzo importante che manca al milan diciamo che non lo so cioè diciamo che mila parte un pochino svantaggiato su sto fatto qua perché se ci avesse avuto la vao che c'era il giocatore quello più rappresentativo quello che può dare magari già se la poteva gioca molto molto più invece così io manca quel giocatore sperando che c'è ritorna almeno ritorno comunque non lo so chi può può passare domani sera quello che può succedere i derby stasare casa sempre in come punto interrogativo era un po vedere un po domani sera saremo qui a commentarla e magari vediamo io non dico niente non dico niente però vediamo vediamo voi sapete no vediamo ok raga domani sera non so se farò la live comunque in caso la partita la commento come al solito e e poi dopo domani toccano ma poi c'è ancora tempo e parla di noi ok ciao 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 ciao